Sindaco e assessori di Sciacca una volta al mese si trasformano in volontari della mensa della solidarietà, quella fondata 12 anni fa dal sacerdote Don Pasqualino Barone. È stato lui stesso stamattina al nostro telegiornale a rivelare la notizia. Notizia è che il sindaco Fabio Termini e gli altri componenti della sua giunta avrebbero voluto che rimanesse riservata. È una cosa che abbiamo deciso di fare con trasporto emotivo, ovviamente la politica non c'entra, ha precisato l'assessore Agnese Sinagra. Già prima dello scorso Natale gli amministratori comunali di Sciacca, cucinando, servendo ai tavoli, hanno preparato la cena per la quarantina di indigenti circa che ogni giorno, grazie al lavoro di uno staff di volontari fissi, possono ricevere un pasto caldo. Per l'attività di volontariato occasionale periodicamente sono all'opera, come è noto, anche le associazioni che raggruppano i militari in pensione, carabinieri, guardie di finanza, ma anche gli agenti di polizia, nonché ai cittadini comuni, rappresentanti dei club service, dalla Rotary a Lions e domani, giorno dell'epifania, cucinare e servire a tavoli saranno l'esponente della FIDAPA. C'è una bella attenzione su di noi, ma gestire tutto è sempre più complicato, dice padre Pasqualino, ogni giorno, aggiunge, servono persone disponibili a dare una mano, ma naturalmente occorrono anche derrati alimentari, per non parlare dei soldi per comprare fornelli e suppellettili e quelli per pagare le bombole del gas e le bollette. Come tutti, anche noi abbiamo subito il rincario del caro energia, ma grazie a Dio tanta gente ci aiuta e comprende la necessità di fare qualcosa per chi è in difficoltà. E tra chi ottiene un aiuto ci sono anche persone che si vergognano a presentarsi nel salone attivo alla chiesa di Santa Caterina, dove si trova la mensa della solidarietà di Sciacca. Sono persone bisognose che temono per la loro dignità. Allora portiamo da mangiare direttamente a casa, ha concluso padre Pasqualino.